Bene, cominciamo con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Gloria al Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Madonna di Lourdes, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Continuiamo con le nostre riflessioni sui profeti. Prego, 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 dove vuoi. Continuiamo con le nostre riflessioni sui profeti. E' solamente un ripasso molto molto veloce a ciò che sarebbe, ricordiamo quali sono il fondamento di tutto questo nostro discorso. Che praticamente nella Sacra Scrittura ci sono queste sette alleanze, sette momenti dell'Aleanza. Perché l'Aleanza è una sola. L'Aleanza con il popolo di Israele è stata una sola. L'Aleanza è se Dio è il nostro centro, allora Lui ci benedirà. Lui ci benedirà. E questo è stato il nucleo. Ma ci sono questi sette momenti. Un primo momento è Adamo ed Eva, dove si propone questa alleanza. Non mangiare dell'albero, fai, eccetera. Poi con Noè quell'Aleanza viene restabilita, l'arcobaleno. Poi con Abramo, con Abramo appare Dio e le promette tre cose. Prima una grande nazione, un grande nome e una grande benedizione. Queste sono le tre cose. E la prima viene compiuta con Mosè, dove si costituisce il popolo, entra alla terra promessa e si compie una grande nazione. Poi viene con il re Davide, con tutto il suo regno famoso, un grande nome. E si compie così la seconda promessa. E poi dopo il re Davide vengono tutti i profeti a rinnovare questa promessa che viene compiuta in Gesù. In Gesù che si compie la terza promessa, una grande benedizione che è per tutti i popoli. Questo è il grande schema delle sette alleanze. Dicevamo dei profeti. I profeti sono il termine profeta, che viene profetes in greco, che viene dal verbo femicio. È semplicemente uno che parla invece di qualcuno, in favore di qualcuno. Con questi tre significati che abbiamo di profeta. Il primo significato è dire in precedenza, annunciare il futuro. Pro-fetes. Dire in precedenza. C'è un secondo significato che è il manifestare cose nascoste, mettere davanti quelle cose. C'è un terzo significato che è parlare al posto di qualcuno. E questo sembra di essere il significato più proprio per i profeti dell'Antico Testamento. Quindi i profeti non sono solamente quelli che annunciano la venuta di una distruzione, di una benedizione, come noi abbiamo in mente. Ah, sei un profeta. No. O anche, per esempio, questo è ciò che noi abbiamo, ma, per esempio, c'è il significato della manifestazione di cose nascoste nel Vangelo della Samaritana, si vede molto bene, che dice Gesù alla Samaritana è che hai avuto cinque e questo non è il tuo marito, una cosa che aveva nascosta. E allora viene manifestata e la Samaritana dice ah, vedo che sei un profeta, perché hai manifestato cose nascoste. Ma qua nei profeti stiamo parlando soprattutto di questo. E in ebraico, infatti, il termine Navi sottolinea quel atto che fonda tutta l'attività dei profeti, che è un incarico da parte di Dio a fare qualcosa, un incarico. Dopo questo abbiamo visto anche che la vocazione dei profeti ha certi elementi, e stiamo facendo veloce perché l'abbiamo visto l'anno scorso, solamente per inquadrare bene e ripartire bene con tutti i profeti. C'era la... Sempre tutti i profeti, quasi tutti iniziano il libro nel tempo del regno del re, papà, quando... Perché vuole inquadrare una data precisa. come una cosa che è successa. Perché? Perché il messaggio dei profeti è una cosa concreta, non è grande, ma che è per un tempo concreto, per delle persone concrete. Certo che noi il significato, tutto l'insegnamento, ce lo applichiamo, ma i profeti hanno parlato in un periodo concreto a una persona concreta o a delle persone concrete. E prima, innanzitutto, la parola viene rivolta a questo profeta finché lui le mette in pratica per poi poter annunciarla. Quindi è il profeta che prima deve viverla. e dopo, quando l'ha vissuta, viene la paura del profeta perché da una parte si sente inadeguato a trasmetterla, è una cosa molto grande. O io non so parlare, sono... O io non so parlare, sono un bambino, sono un ragazzo. Quindi viene la paura come una cosa grande, ma la paura più grande del profeta ed è per questo che a volte scappa, no? perché si rendono conto che il loro compito non è semplicemente annunciare, ma il loro compito è far che gli altri si convertano. E dicono, eh no, questo è troppo. No, 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 non ce la farò, alcuni scappano ed è per questo che Dio sempre è lì. Dopo aver affidato l'incarico ai profeti, dice a loro, io sarò con te, non temere, io sarò con te. È un ritornello continuo. E non bisogna dimenticare che anche se tutti i messaggi dei profeti, molti di loro sono di sventura, che guai a voi, eccetera, è fondamentalmente un messaggio di gioia. Cioè, se tu torni al Signore, all'alleanza con il Signore, ci sarà perdono e ci sarà gioia. Se no, sì, distruzioni, ma lo scopo è trasmettere pienezza e gioia. Questi sono questi capisaldi che non bisogna dimenticare. Perché continueremo con i profeti. Oggi che vediamo il profeta Mikea, vedremo come effettivamente anche Mikea ma va duro e ha la testa, gambizza, distrugge. Ma anche il profeta Mikea sottolinea tanto la misericordia di Dio, tantissimo. E c'è il rischio di restare noi solamente con l'aspetto di se non torni a me preparati. E ci dimentichiamo dell'altra parte. Se torni a me allora quindi non bisogna perdere la prospettiva di questi profeti. Vi ricordo come sono, dove sono inquadrati i profeti, i profeti, cioè praticamente nell'Antico Testamento abbiamo i libri della Torà, i libri della Legge, cinque libri, il Pentateuco famoso, poi i libri storici, poi i libri sapienziali, tra cui Giove, Salmi, Proverbico, il Cantico dei Cantici, Sapienza, Siracide, e poi vengono i profeti, vengono i profeti infine nella Bibbia e dopo i profeti, dopo il profeta Amalachia, si passa al Nuovo Testamento. Riguardo a questi libri dei profeti, sono 17 libri, come dicevamo, e sono 16 scrittori, 16 autori, perché il libro delle Lamentazioni, come è considerato un libro profetico, il libro delle Lamentazioni sono scritti da Geremia, da Geremia, quindi Geremia, c'è il libro del profeta Geremia e il libro delle Lamentazioni. Anche l'ordine che noi troviamo attualmente nella Bibbia, nella Bibbia sono secondo la Vulgata, secondo la Vulgata, ordine antichissimo, e la Bibbia dei 70, quelli di Alessandria in Egitto, tradotto dall'ebraico, sono gli stessi libri, solamente che in un ordine un pochino diverso. adesso non ci mettiamo a vedere l'ordine, eccetera, no? Solamente vi ricordo che abbiamo questi due tipi di profeti, i profeti maggiori e i profeti minori. Non sono libri secondo l'importanza. Sì, Sant'Agostino ha fatto questa distinzione, ma non è i più importanti sono i profeti maggiori, i meno importanti, no, ma sono semplicemente riguardo all'estensione, all'estensione. il profeta Isaia logicamente è un profeta maggiore perché ci sono un sacco di capitoli, il profeta Michea che vediamo oggi è profeta minore perché sono solo sette capitoli, bene, quindi è questa la distinzione. noi abbiamo visto il profeta Isaia questo riguardo ai libri ma nell'ordine dei profeti il tempo in cui sono vissuti abbiamo noi cinque profeti che sono del secolo ottavo cioè prima o durante l'esilio del regno del nord di Israele che è stato esiliato in Siria sì il primo il regno di Israele e noi abbiamo già visto in ordine cronologico come se vi ricordate non stiamo vedendo i profeti in base all'ordine come sono nella sacra scrittura ma mi si è intoppato un moscerino cos'è no no forse qui grazie il profeta abbiamo visto che nel regno di Israele predicava Amos e anche Osea abbiamo visto Giona che va Ninive nella zona mesopotamica e poi Giuda nel regno di Giuda ci sono due profeti Isaia e Michea quindi oggi finiremo con Michea cioè Michea che è stato l'ultimo che ha predicato durante il regno del nord durante il regno del nord poi Cenaum lo vedremo dopo sarà il prossimo però lui predica Ninive comunque e Michea il bene adesso lo vedremo vedremo Michea il profeta Michea quindi anzitutto chi era Michea chi era questo personaggio era un come il profeta Amos anche lui era contadino un contadino che si vede anche nella concretezza del suo parlare del suo scrivere un popolo molto molto concreto un profeta molto concreto e probabilmente è stato discepolo di Isaia si vedono tantissimi testi l'influenza di Isaia e si vedono alcuni testi che sono quasi copiati vedremo qualcuno con quella differenza Michea significa chi come il Signore la stessa radice dell'arcangelo Michele come nome chi come il Signore e dice come abbiamo visto nel secolo ottavo proprio prima dell'esilio del regno del nord del regno di Israele anche se lui nacque nel villaggio di Moreset Gat Moreset si trova qui Gerusalemme Gerusalemme un pochino al sud ovest Betlemme è ancora al sud ovest e c'è Moreset Gat dove è nato questo è Michea lo sappiamo perché lo dice lui ma anche lo dice il profeta Ezechiele infatti Geremia scusate il profeta Geremia lo cita parla di lui nel capitolo 26 del profeta Geremia quando dice allora si alzarono alcuni anziani del paese e dissero a tutta l'assemblea del popolo Michea di Moreset che profetizzava al tempio di Ezechia re di Giuda affermò a tutto il popolo di Giuda così dice il signore degli eserciti Sion sarà arata come un campo e Gerusalemme diventerà un cumulo di rovina il monte del tempio un'altura boscosa quindi al tempo di Geremia si conosceva già era famoso questo Michea gli escritti del profeta Michea perché infatti si trova anche quello nel testo del profeta Geremia come lo vedremo nel suo libro parla del regno di Israele ma parla al regno di Giuda il suo messaggio è per Giuda perché noi vedremo che parla anche continuamente del popolo di Israele ma lui sta scrivendo a quelli di laggiù a quelli del sud e come dicevamo è un profeta molto concreto robusto un profeta che non usa tante immagini va diretto cioè da buon contadino come il profeta Amos diretto non si mette scarpe grosse e testa fina e come per esempio Isaia come abbiamo detto che viene chiamato il Dante della letteratura biblica perché è una poesia piena di metafore piena di figure letterarie invece questo uomo al pane pane al vino vino e al pane vino marcellino qual è lo schema del libro il libro ha quattro parti anche se alcuni parlano di tre parti però è meglio parlare di quattro perché l'ultima parte cambia completamente il tono perché prima comincia a accusare tutti i politici i sacerdoti i profetti falsi perché c'è una corruzione immensa anche a Giudea e anche al Regno del Nord quindi sta parlando anche del Regno del Nord per dire anche qua siamo distrutti e sono questi responsabili dell'ingiustizia ed è molto duro soprattutto perché lui si rende conto che sono stati i re i sacerdoti e i profeti a pervertire il popolo a portarli dalla cattiva strada come adesso lo vedremo sono tutti questi sono oracoli la seconda parte sono oracoli che sono protesi un po' verso quella la speranza della salvezza la speranza del perdono cosa che la prima parte i primi i primi tre capitoli si vanno duro e alla testa si non lascia nessuno in piedi ma arriva il capitolo 4 e il capitolo 5 dove dà un pochino di speranza perché dice il Signore tornerà il Signore vi salverà ed è lì dove appare questo famoso oracolo che appare nel Vangelo di Matteo quando i re i magi quando i magi vanno da Erode gli dicono dove nascere il re dei giudei Erode ma che ne so chiamate gli altri i saggi dove nascerà il Messia e allora dicono ah il profeta dice si riferiscono al profeta Michea perché lì dove e tu betleme terra di Efata la più piccola e da te nascere il grande re e lì il profeta Michea che parla di quello la terza parte che sono capitoli 6 e 7 l'inizio del capitolo 7 e comincia è un dialogo cioè prima dopo dopo aver prima li accusa poi dice guardate che ci sarà il salvatore tutti saranno bravi e buoni e Israele sarà grande ancora poi arriva la terza parte dove si mette in confronto con il popolo di Giuda e prima comincia appassionatamente una cioè inveisce e poi fa un processo a loro come un processo giudiziario per le sue mancanze e soprattutto il classico ritornello di tutti i profeti li accusa di si fidano di una religiosità ma che non ha corrispondenza con la vita né con la giustizia né con la carità né con la fedeltà a Dio si troppo troppo religiosi ma non vi serve a niente è il classico ritornello di tutti i profeti se vi ricordate anche Isaia Amos tutti quanti li abbiamo visti che hanno osea che hanno quell'estese ritornello e dei brani molto chiari e duri come diceva anche il profeta Eosea i vostri sacrifici mi fanno schifo se vi ricordate e l'ultima parte che è quella che alcuni la mettono insieme alla terza però è buono separarla è già quando parla di la speranza e il perdono come si chiude il libro con quella speranza che Israele si convertirà Dio lo perdonerà lo benedirà sarà tutto felicità tutto grandezza e tutto gioia quindi la prima parte tutta la parte dell'accusa che parla del peccato di Israele e conseguentemente anche di Giuda sono i primi tre capitoli inizia con questa accusa a Samaria Samaria Regno del Nord Regno del Nord Samaria che tra poco sarebbero stati deportati in Siria e inizia con quel invito con quel richiamo a tutti i popoli perché è un processo comincia con questo processo e dire bene venite udite popoli tutti fa attenzione o terra con quanto contieni il Signore Dio testimone contro di voi il Signore dal suo santo tempio cioè il primo versetto è il classico versetto dell'inizio di tutti i libri il libro del profeta Michea figlio della terra durante il tempo e subito dopo parte ex abrupto udite popoli tutti cioè come testimoni per vedere che non accusa di nascosto non le manda dire va chiaro cioè io so cosa hai fatto allora va metto come testimone tutta la terra il regno e questa è l'accusa che il regno di Israele si è allontanato da Dio e per questo sarà distrutto come effettivamente succederà ma subito dopo già passa al lamento di Giuda quello gli serve solamente come una scusa si sta parlando a Giuda al sud quindi dice oh regno di Israele come si dice in spagnolo lo dico a te Pietro perché mi capisca tu Giovanni non c'è qualche espressione così in italiano perché così in spagnolo così si dice lo dico a te Pietro perché mi capisca tu Giovanni quindi oh Israele sei un disgraziato ti sei allontanato da Dio esatto bene è come se io mi mettessi qui a dire oh parrocchia di no meglio non faccio nomi perché se no parrocchia di San Nepomuceno tu che ti sei allontanata da Dio non ascolti anche voi ed è così come fa lui dopo aver invejito contro Israele va contro Giuda e prende un tono completamente funerario perché ormai il popolo di Israele sta morendo non ha più salvezza è il lamento di un parente che sta perdendo uno dei suoi cari che sapete che c'era la forma una delle manifestazioni è proprio un urlare per manifestare quella il dolore per il morto quindi dice il profeta Michea dal capitolo 1 versetti dall'8 al 9 perciò farò lamenti e griderò me ne andrò scalso e nudo manderò ululati come gli sciacali urli lamentosi come gli struzzi perché la sua piaga è incurabile cioè proprio sta dicendo vanno alla morte questi non hanno più soluzione è vero che come sapete il regno del nord il regno del sud scusate sarà deportato 200 anni dopo del regno di Israele ma comunque già lì il profeta Michea dice quelli là disgraziati saranno deportati distruzioni ma voi la vostra piaga è incurabile è incurabile ed è giunta fino a Giuda si estende fino alle soglie del mio popolo fino a Gerusalemme perché questi del sud si sono lasciati contagiare da quelli del nord altro che coronavirus e poi ancora quel lamento tagliati i capelli rassati la testa per via dei tuoi figli e tue delizie allarga la tua calvizie come un avvoltoio perché vanno in ensilio lontano da te quindi sta parlando del regno del nord perché mi capisca tu Giuda poi comincia a parlare dell'avidità e l'ingiustizia e comincia a minacciare tutti gli avari la classica la classica accusa che era che aveva che faceva il popolo del nord a Israele che anche il profeta Amos se vi ricordate lunghissimi capitoli e duri su questi che si sono arricchiti con gli orfani con le vedove con le ingiustizie quindi anche lui comincia a colpire direttamente quelli avari che per l'attaccamento ai beni materiali fanno ingiustizia usurpano campi e case vendono le donne come schiave commettono ogni genere di ingiustizia ma e qui dove passa nonostante tutto una promessa di salvezza sì e questi oracoli è un breve oracolo sì alla fine del di questo capitolo 2 c'è questo piccolo oracolo che comincia un po' a dare un pochino di speranza ma si crede che quel oracolo piccolo quei piccoli versetti sono stati aggiunti dopo perché lo stile è diverso quindi non sembra lo stile di Michea ma sono apparsi lì quindi probabilmente dicono i critici sono stati scritti dopo certo certo ti radunerò tutto Giacobbe certo ti raccoglierò il resto di Israele li metterò insieme come pecore in un recinto sicuro come una mandria in nezzo al pascolo dove mugisca lontano dagli uomini e va contro i capi contro i capi e i falsi profeti ricordiamoci che nel popolo di Israele il capo supremo era Dio siano i sacerdoti i profeti e i re erano stati unti per fare le veci di Dio in certo in certi settori sì cioè il re per il governo della creazione per il governo del popolo le cose terrene i sacerdoti per fare da ponte tra Dio e gli uomini nel culto rappresentare Dio nel culto e i profeti per parlare nel nome di Dio venivano anche unti ed è per questo che anche noi nel battesimo veniamo unti come sacerdoti profeti e re perché erano affidati nominati da Dio per il servizio del popolo per questo va contro queste tre categorie contro i sacerdoti i profeti e i re perché hanno deviato il popolo quindi va direttamente prima contro i governanti perché si approfittano del popolo i governanti si approfittano del popolo e i profeti cosa fanno se tu mi dai dei soldi io ti annuncio gioia felicità e ventura se tu non me ne dai allora ti annuncerò disgrazia e sventura quindi questo lo sta dichiarando e Michea lo sta dicendo allora grideranno al Signore ma egli non risponderà nasconderà loro la faccia in quel tempo perché hanno compiuto azioni malvagie e dopo di dirlo anche dei re lo dice anche dei profeti corrotti che è quello che vi dicevo se mi dai soldi ti annuncio pace gioia se no preparati per voi dice Michea per voi sarà notte invece di visioni cioè non parlerà Dio più a loro che erano forse profeti che erano stati scelti e che parlavano nel nome di Dio ma Michea dice visto che siete corrotti Dio non vi inspirerà più invece di visioni tenebre per voi invece di risponsi il sole tramonterà su questi profeti e oscuro si farà il giorno su di loro i veggenti saranno ricoperti di vergogna perché non hanno risposta da Dio non hanno risposta da Dio per quanto più parlano o chiedono aiuto Dio non risponde logicamente quale sarà la conseguenza la distruzione di Gerusalemme e la distruzione del Tempio la città santa e la casa di Dio saranno distrutte ma non perché Dio sia debole e allora vinceranno i babilonesi ma perché saranno la conseguenza dell'infedeltà di questi capi dei sacerdoti dei profeti e dei re i suoi capi dice Michea al capitolo 3 i suoi capi giudicano in vista dei regali i suoi sacerdoti insegnano per lucro i suoi profeti danno oracoli per denaro osano appoggiarsi al Signore dicendo non è forse il Signore in mezzo a noi non ci coglierà alcun male perciò per causa vostra Sion sarà arata come un campo e Gerusalemme diverrà un mucchio di rovine quello che poi ha citato Geremia come vedete qui anche Michea si scaglia molto contro contro questi queste classi di governanti perché è cosciente che questa classe che erano prestigiosi quindi deviano tante tante persone perché continuamente noi veniamo invitati a pregare per i governanti per i sacerdoti per la Chiesa per i vescovi perché anche noi siamo in pericolo di deviare la gente perché tanta gente si fida di noi e se noi non siamo come Dio vuole però i profeti siamo anche noi perché essendo un ti dicevi del battesimo come profeti mi viene da pensare che è un obbligo quello di annunciare e parlare in nome di Dio però possiamo deviare esatto esatto come purtroppo tante persone fanno deviano dicendo che Dio ha detto o Dio dice quando in realtà Dio dice oh o Dio intendeva che no un attimo un attimo aiuto dice è logico che guardate è questa la misericordia di Dio la bontà di Dio bisogna che noi chiediamo continuamente luce allo Spirito Santo abbiamo la grazia di avere lo Spirito Santo che ci assiste e che se ci fidiamo dello Spirito Santo possiamo veramente annunciare annunciare la verità ma il problema il problema è che quando noi cominciamo a metterci per la via dell'egoismo allora facilmente deviamo il messaggio per giustificare i nostri egoismi quando uno comincia a non essere coerente con le proprie convinzioni riesce a giustificare i propri comportamenti riesce a giustificarli noi in spagnolo abbiamo un altro detto che dice chi non vive come pensa finisce a pensare come vive è vero chi non vive come pensa finisce a pensare come vive cioè immaginatevi una persona un governante che che fa le buste che accetta le buste airele che si lascia corrompere riesce persino a giustificarlo e beh lo fanno tutti e beh però alla fin fine che c'è di male o alla fin fine sì sì abbiamo visto anche diversi esempi purtroppo un sacerdote che comincia con i suoi atti licenziosi arriva persino a giustificare beh sì ma alla fin fine se è consensiente se non ci succede niente riesce a giustificarlo perché funzioniamo così se non viviamo come pensiamo finiamo a pensare come viviamo ed è questo ciò che rinfaccia questo Michea a questi sacerdoti profeti che forse erano giusti erano avevano cominciato bene erano stati scelti consacrati bellissimo ma alla fin fine con le piccole non so se vi ricordate non so se chi c'era l'omelia che abbiamo fatto questa domenica alle nove e mezzo in cui ciò che ci distrugge sono quelle piccole mancanze deliberate non le mancanze in quanto tali non le debolezze ma le mancanze deliberate sono quelle che ci fanno arrivare a queste cose bene e passiamo a questa seconda parte del libro di Michea il libro di Michea che parla invece dopo aver bastonato tutti quanti arriva questa il respiro perché parla della restaurazione di Gerusalemme che tornerà a Dio Dio la benedirà e arriverà questo grande salvatore che sarà principe della pace che sarà e tutto sarà a posto prima comincia a parlare di questo regno universale del Signore in Sion cioè universale è vero che comincia a dire che tornerà Gerusalemme Gerusalemme tornerà al Signore e quindi il Signore splenderà su Gerusalemme ma verranno tutte le nazioni della terra tutte le nazioni saranno sudditi del Signore quindi qui prende in questa prima parte e prende quasi copiato letteralmente con alcune piccole differenze i primi cinque versetti del capitolo 4 di Isaia quasi uguale perché è questo oracolo che fa Isaia dello splendore della gioia infatti questo uno non sa in realtà se è di Isaia o di Michea cioè se lo leggiamo senza la citazione può essere perfettamente di Isaia perché è quasi uguale verranno molte gente e diranno venite saliamo sul monte del Signore venite molte gente cioè molte nazioni non solamente il popolo di Israele non solamente loro ma tante nazioni verranno sul monte del Signore Gerusalemme Sion e al tempio del Dio di Giacobbe perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri poiché da Sion continua Michea uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore perché è la saggezza che Dio ha trasmesso al popolo di Israele che la troviamo scritta nella Sacra Scrittura è una saggezza reale e valida per questo Gesù stesso cosa ha detto non sono venuto a cambiare la legge ai profeti ma dare pienezza ma quella lì è validissima è verissima tutto ciò che è scritto lì è vero perché parte dell'Alleanza e tutte le nazioni andranno a Gerusalemme perché per ascoltare la saggezza che Dio ha trasmesso a loro e noi continuiamo ad andare a Gerusalemme non dico i pellegrini agi in Terra Santa ma nella Sacra Scrittura che diciamo tutti i giorni nella Messa Poi dopo questo dice torneranno torneranno e Sion sarà liberata dai nemici perché i popoli stranieri si deporteranno a Gerusalemme ma da lì il Signore le libererà il Signore li farà tornare alla propria nazione spassi ma i gemi figlia di Sion come una partoriente perché presto uscirai dalla città cioè presto sarai deportata e dimorerai per la campagna e andrai fino a Babilonia ma continua Michea là sarai liberata là il Signore ti riscatterà dalla mano dei tuoi nemici quindi parla di quel riscatto quella restaurazione del popolo della della città di Gerusalemme e quindi al capitolo quinto arriva e come avverrà questo con la nascita di un grande liberatore che sarà il grande dominatore e l'oracolo come abbiamo già accennato quest'oracolo di Michea del capitolo 5 il primo versetto beh diversi versetti di quest'oracolo viene ripreso nel Vangelo di Matteo con l'adorazione nell'adorazione dei magi quando dove nascerà dove profeti saggi dove il profeta dice e tu Betlemme di Efratà così piccola per essere fra i villaggi di Giuda da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele questo viene citato in Matteo ma l'oracolo sul Messia è a diversi versetti non ho voluto metterli qua tutti però ha tantissimi versetti che parlano di cosa farà il Messia quindi lì lo potete vedere nel libro di Michea al capitolo 5 tutto ciò che farà questo dominatore e anche questa venuta dei magi Matteo allora come sapete Matteo tutto il Vangelo di Matteo che sta scritto per gli ebrei soprattutto vuole sottolineare come in Gesù si compiono le scritture Gesù è il compimento delle scritture invece Marco e Luca scrivono per pagani Giovanni fa la sua riflessione teologica ma Matteo sta scrivendo a ebrei che si sono convertiti al cristianessimo quindi per lui è molto importante dimostrare a questi ebrei grandi conoscitori dell'Escrittura grandi destinatari della parola di Dio vuole dimostrare che quello là è validissimo tutta la tutta la legge e i profeti validissimi perché si compiono in Gesù per questo Matteo fa continui riferimenti all'Escrittura più degli altri tre evangelisti ai profeti alla legge e quindi anche la presenza di questi magi Matteo la mette come vedete già le nazioni questi che venivano dall'Oriente le nazioni come annunciato del profeta Michea nascerà e a Betlemme nascerà questo grande ilveratore e verranno ad adorarlo tutte le nazioni vedete state vedendo sì perché finalmente Giave sarà il centro grazie a Gesù attraverso Gesù che il grande profeta che portará compimento riporterà tutte le pecore all'ovile e parla anche del resto di Israele il resto di Giacobbe sì il resto di Israele o di Giacobbe come sapete Giacobbe e Israele è lo stesso e quando parla del il resto il resto che è un'espressione molto comune soprattutto dopo l'esilio di Babilonia cioè in riferimento all'esilio parla del resto come quelli che sono rimasti dopo gli esili perché vuole sottolineare che Dio anche se li ha puniti non li ha nienta perché le promesse di Dio sono irrevocabili sono irrevocabili quindi non distrugge il suo popolo è vero che li ha lasciati alla loro sorte perché loro hanno voluto allontanarsi da Dio volevi allontanarsi benissimo ma siccome io ti ho promesso salvezza non ti distruggeranno non ti annienteranno dal tutto perché io sono fedele questo è il messaggio di Dio quindi il resto di Giacobbe sarà in nezzo a molti popoli come rugiada mandata dal Signore come pioggia che cade sull'erba quei pochi che saranno rimasti loro saranno benedizioni loro saranno la causa di che Dio sia al centro di tutto e quindi conseguentemente c'è la la fine della potenza militare della magia e dell'idolatria perché comincia a parlare di questi di questi grandi combattenti babilonesi siriani e tutti questi a Siria e tutto quello e tutti questi hanno conquistato Gerusalemme hanno conquistato Israele ma non resteranno niente spariranno i carri spariranno le spade spariranno tutti perché non ci sarà in quel giorno oracolo del Signore distruggerò i tuoi cavali in mezzo a te e mandare in rovina i tuoi carri distruggerò le città della tua terra e demolirò tutte le tue fortezze ti strapperò di mano i sortilegi e non avrai più indovini distruggerò in mezzo a te i tuoi idoli e le tue stelle né più ti postrerai davanti a un'opera delle tue mani quindi tutti questi indovini anche li dice al capitolo 5 dice e questi indovini vorranno trovare sortilegi e non li troveranno tutti questi gli indovini dei babilonesi famosissimi e quindi infatti il prevedente della storia dopo il successo effettivamente la distruzione di Babilonia e di si e dice tutti questi che vi hanno distrutti saranno distrutti ma il resto di Israele è il mio popolo e loro saranno rigenerati e saranno ancora causa di benedizione perché io l'ho promeso ad Abramo bene interrompiamo di qua la prossima volta vediamo la terza parte finiamo finiamo Michea o se volete in cinque minuti finiamo Michea sì intanto è poco già quello che manca di Michea sì perché come sapete cerco di essere fedeli anche i 45 minuti bene adesso vi rubo cinque minuti in più spero che siano cinque se sono dieci adesso mi metto come Abramo con Dio e se fossero sette mi perdonereste quando in questi capitoli sei e sette sono gli ultimi due capitoli del libro Michea parla ancora di quella denuncia dell'ingiustizia come dicevo in questi capitoli sei e l'inizio del capitolo sette è come un dialogo entre Dio e il popolo più che dialogo interpella il popolo Dio quindi è Dio che parla prima ha parlato il profeta voi siete così voi siete così avete tradito Dio avete abbandonato idolatri adesso parla Dio quindi è un oracolo in forma processuale è un processo che Dio sta facendo al suo popolo lo convoca a giudizio lo convoca a giudizio dicendo che queste sono cose serie non vi sto parlando semplicemente che avete mangiato una caramela e che c'è questo paragrafo molto ironico molto ironico dove Dio dice ma io ti ho fatto un sacco di bene lungo la storia e ricorda la storia che ha fatto e dice tu come mi hai pagato ed è c'è questa famosa frase bellissima no popolo mio che cosa ti ho fatto in che cosa ti ho stancato rispondimi e dice ma forse io ti ho stancato perché ti ho tirato fuori dall'Egitto forse ti ho fatto male perché ti ho dato una terra che dà latte e miele forse ti ho fatto del male ti ho rattristato perché ti ho sconfitto i tuoi nemici cioè allora cosa ti ho fatto perché tu mi tratti così e c'è questo del venerdì santo non so se voi avete sentito quel canto c'è un canto una serie dei lamenti si chiamano il popolo mio che si chiama così il popolo emeus il canto in latino che cosa ti ho fatto e questo è il ritornello di questo canto che cosa ti ho fatto che in che cosa si canta durante l'adorazione della croce solamente che purtroppo non tutti lo conoscono perché in latino è tremendo è tremendo è proprio ti fa tremare ci sono delle versioni in italiano ma non so mi sembrano adolcite non ho trovato una versione italiana proprio che sia che ti scuota ci sono alcune belle come musica ma si perdi un po' ma il testo cosa dice questo immaginatevi si canta questo testo durante l'adorazione della croce cioè stiamo andando tutti in fila a baciare la croce venerdì santo Gesù muore noi adorare la croce cosa si canta in quel momento dice popolo mio il ritornello che male ti ho fatto in che ti ho provocato dammi risposta perché è tutto Dio che parla e dice io per te ho flagellato l'Egitto e i primogeniti i suoi e tu mi hai consegnato per essere flagellato io ti ho guidato fuori dall'Egitto e ho sommerso il faraone nel Mar Rosso e tu mi hai consegnato ai capi dei sacerdoti io ho aperto davanti a te il mare e tu mi hai aperto con la lancia il costato io ti ho fatto strada con la nube e tu mi hai condotto al pretorio di Pilato io ti ho nutrito con manna nel deserto e tu mi hai colpito con schiaffi e flagelli io ti ho disetato dalla rupe con acqua di salvezza e tu mi hai disetato con fiele e aceto io per te ho colpito il re dei cananei e tu hai colpito il mio capo con la canna io ti ho posto in mano uno scettro regale e tu hai posto sul mio capo una corona di spine io ti ho esaltato con grande potenza e tu mi hai sospeso al pativolo della croce ma c'è sul libro di Michele o questo? no 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 questo no questo no ma questo è sul mesale se uno va in mesale o in internet che vede la liturgia del venerdì santo lì c'è perché uno dei canti nella liturgia non si può parlare così ma è uno dei canti permettetelo tra virgolette obbligati sì è praticamente il canto che è lì per l'adorazione della croce dopo puoi cantare quello che vuoi ma c'è il o croce santa sì e poi c'è il popolo mio cioè non croce santo non ti saluto croce santa ma quello di croce fedele sì tra tutti gli alberi il più santo eccetera no e poi c'è questo testo però è molto bello perché si alterna tra strofa e strofa prima popolo mio che male ti ho fatto in questo ti ho provocato dammi rispondere poi io per te ho flagellato l'Egitto i suoi primogeniti poi santo Dio santo forte santo immortale il canto lo dice in latino lo dice in greco poi lo dice in latino sì santo forte santo immortale abbi pietà di noi e poi come io ti ho guidato fuori dall'Egitto popolo mio che male ti ho fatto io ho aperto davanti a te il mare santo Dio santo forte cioè proprio molto molto emotivo c'è uno quando vai davanti alla croce e dai il bacio alla croce qualcuno sente che ti dice io ti ho trattato bene tu come mi hai trattato e logicamente ancora attacca contro la disonestà e contro l'avarizia tipici peccati dei capi contro la disonestà e l'avarizia ed è come sapete il ritornello di tutti i profeti tutti quanti vanno contro l'avarizia e la disonestà e il ritornello a cosa servono i riti se non c'è coerenza di vita a niente sempre il ritornello gradirà il Signore migliaia di montoni e torrente di olio a miriadi dice Michele Michea gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa come si faceva nei popoli pagani il frutto delle mie viscere per il mio peccato uomo ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te praticare la giustizia amare la bontà camminare umilmente con il tuo Dio un buon programma di vita per noi e poi già parla sì parla dei capi parla dei sacerdoti i re i profeti ma ormai tutto il popolo è corrotto tutto il popolo ed è un brano un po' scoraggiante perché uno lo legge e dice tutti quanti siamo non mi viene anzi mi veniva ma non è degno di dire che un prete lo dica e Gesù prende questo brano il figlio insulta suo padre la figlia si rivolta contro la madre la nuora contro la suocera i nemici dell'uomo sono quelli di casa sua lo prende quando dice Gesù io sono venuto a portare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fossi che fosse già acceso e poi dice pensate che sono venuto a portare pace non sono venuto a portare pace ma la guerra e allora sarà il figlio contro la madre il padre contro il figlio madre contro la figlia nuora tutti quanti e i nemici saranno gli nemici della propria casa sì e e prende vedete ancora Matteo a sottolineare in Gesù si compiano le scritture perché con Gesù con il messaggio di Gesù farà che molti si allontanino e allora non seguendo il messaggio di Gesù saranno così perché Gesù è stato il profeta supremo e però meno male che il libro di Michea finisce bene finisce bene perché questi ultimi versetti del capitolo 7 parla di questo perdono divino perdono divino e torno allo stesso che dicevo prima i profeti non finiscono male i profeti non sono solo profeti di sventure ma di benedizione e di gioia se seguiamo il Signore se seguiamo l'Aleanza per questo ho voluto ritornare a questo tema dell'Aleanza che abbiamo visto l'anno scorso come introduzione il perdono divino e la nuova gloria di Israele sarà ancora glorioso dopo l'esilio anche se i popoli che li avevano conquistati e distrutti gioivano ma guarda questi che si credevano che il loro Dio noi invece li abbiamo sconfitti siamo migliori di questi giudei ci sarà la misericordia di Dio sopporterò lo sdegno del Signore perché ho peccato contro di Lui cioè sopporto l'esilio mi ha abbandonato me lo meritavo e questa è la reazione del popolo mi ha abbandonato mi hanno esiliato me lo meritavo bene perché ho peccato contro di Lui finché Egli tratti la mia causa ristabilisca il mio diritto finché mi faccia uscire alla luce e io veda la sua giustizia io sopporterò finché il Signore vorrà me lo tengo ben meritato sopporto e vado avanti così il Signore mi perdona perché so dice il popolo di Israele so che il Signore mi perdonerà ha una grande fiducia nella misericordia di Dio non lo dubita ed è per questo che sarà restaurato ci sarà questa restaurazione Israele sarà restaurata e tutti i popoli vedranno proprio sbalorditi come il Signore rende ancora grande il popolo di Israele e come il Signore è misericordioso perché questo è il tema della fine di Michea alla fine del libro tutto è il tema della misericordia Dio è misericordioso per questo noi ci fidiamo di Lui sì ci ha trattati male me lo meritavo ma so che è buono con me e invece noi ma perché ma il Signore mi ha fatto male e il giorno in cui le tue mura saranno riedificate nel ritorno da Babilonia in quel giorno più ampi saranno i tuoi confini vedranno le genti e resteranno deluse di tutta la loro potenza cioè io ero potente adesso vedo questi qua allora quello mio non era niente paragonato con quello che Dio ha fatto con il popolo di Israele si porranno la mano sulla bocca loro che dicevano oh siamo grandi quelli là sono grandissimi si porranno la mano sulla bocca i loro orecchi ne resteranno assorditi e poi finisce il libro con il popolo certo del perdono di Dio perché il popolo è convinto che la grandezza di Dio non è per la sua giustizia perché quello di persone di persone deboli le persone deboli insicure di se stesse ricorrono facilmente alla violenza implacabile perché per dimostrare che sono grandi e invece Dio manifesta la sua grandezza con la misericordia una altezza una dignità una prestanza quella di Dio e infatti Michele ha proprio gli ultimi tre versetti dice quale Dio è come te che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità gli altri dei le altre popolazioni l'hai fatta la paghi e niente perdono quale Dio è come te che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità ancora il resto egli non serva per sempre la sua ira ma si compiace di manifestare il suo amore si compiace di manifestare il suo amore lui non si compiace nel castigo ricorre al castigo perché non hanno imparato ma si compiace lui nel perdono nel manifestare il suo amore egli tornerà ad avere pietà di noi calpesterà le nostre colpe bellissima l'espressione ormai tutte le nostre colpe ci passa sopra calpesterà le nostre colpe tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati conserverai a Giacobbe la tua fedeltà perché lui si è fedele ad Abramo il tuo amore come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi di un Dio così come potremmo noi avere paura andiamo a letto facciamo una preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo il Signore vi custodisca vi protegga faccia splendere il suo volto su di voi e vi dia pace il Signore vi benedica Padre e Figlio e Spirito Santo Amen Amen